che rovescio ma che difesa pure la Niculescu questo è il punto della partita addirittura in tuffo la Williams ha cercato di emulare Boris Becker dal punto di vista delle emozioni, dei significati questo è un grandissimo passante Williams che va per le terre nel tentativo vano di recuperare questo passante